Sapete che c'è una pianta che vi subito aiuto quando vi scordate di darle da bere? Le marante e leucronere, tutte queste varietà qua, dette anche pianta della preghiera, tendono a drizzare le foglie e a chiuderle, tipo come due manine come se stessero pregando, sia di sera che quando hanno sete. La chiusura delle foglie serve per ridurre la traspirazione dell'acqua dalla foglia, quindi per risparmiare l'acqua che non gli state dando, oppure sottosera che non c'è bisogno di far lavorare le foglie per la fotosintesi toro filiale. Sono piante da interno molto facili, molto particolari, però veramente le correnti d'aria fredde, tipo vicino a una finestra oppure una porta che si apre, si chiude e le rovinano molto la foglia. Il terriccio deve essere sempre umido, possibilmente usiamo un terriccio universale, ben drenato, eccetera. È una pianta che cresce abbastanza velocemente, una volta ogni anno o anche due, necessitano di un vaso più grande e vanno concimate spesso.